ciao un benvenuto a tutte e tutti voi a una ricetta con orietta io sono federica giffe e oggi cucineremo insieme con le eccellenze dop e igp dell'emilia romagna prepariamo il dolcemente ingredienti pampapato pampepato di ferrara igp amarene brusche di modena igp anguria reggiana igp ciliegia di vignola igp pesca nettarina di romagna igp melone mantovano igp yogurt greco naturale quanto basta vaniglia naturale in polvere quanto basta cioccolato fondente 85 per cento quanto basta menta per decorare oggi volevo suggerirvi un'idea per consumare il pampapato anche nei giorni più caldi dell'anno lo tagliamo a fettine e guardate che bella texture un mosaico praticamente a parte tagliamo la nostra frutta io ho tolto anche il nocciolo alle ciliegie con l'accessorio fatto apposta che è molto comodo ma se non ce l'avete potete farlo manualmente poi mescolo tutto insieme e tengo la nostra frutta tritata da parte una sorta di macedonia o insalata di frutta poi ho tagliato cubettini il pampapato e aggiungo un po di amarene brusche che hanno un sapore un po acidulo e dolce molto aromatico fantastico si sposa meravigliosamente col pampapato mescoliamo il tutto poi andiamo a fare una base in due vasettini nel mio caso vanno benissimo anche i vasetti di risulta non so delle marmellate che avete appena finito aggiungiamo la frutta fresca e adesso prepariamo il nostro topping praticamente io ho considerato un cucchiaio di yogurt greco al naturale a testa quindi in questo caso due cucchiai di yogurt un po di vaniglia e mescoliamo un po per incorporare aria distribuisco sulla nostra frutta e aggiungo un po di cioccolato fondente tritato grossolanamente io consiglio ad alta percentuale di cacao due foglioline di menta giusto per rendere ancora più bello il nostro dolcemente che vi ricordo essere un album della nostra cara orietta berti spero che questa idea vi sia piaciuta vi ricordo che su www.unaricettaconorietta.it potrete trovare tutti i dettagli insieme ad altre ricette io vado a fare assaggiare il dolcemente alla nostra orietta berti e ve la saluto ciao bacione e alla prossima ciao 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 ciao